Anche quest'oggi siamo tornati in via Brofferio a Padova. Oggi era il giorno in cui il Comune si era preso l'incarico di far togliere i calabroni e l'alveare che c'era qui al quarto piano di questo palazzo. Qui con noi c'è Massimo Amistà che ci racconta insomma come è andata la mattinata e cosa è successo. Sì allora alle otto e mezza come mi avevano detto è venuta una ditta per disinfestare la cosa, il favo e anche all'interno quello che si era creato. Sono stati puntuali, alle otto e mezza si è presentato qua il geometra Franco Dell'Ater, la ditta disinfettatrice, la pulizia municipale, la pulizia di quartiere per l'autorizzazione ad entrare. Hanno effettuato una disinfestazione prima esterna come si vede, prima esterna e c'era un quantitativo enorme di calabroni e poi tramite l'ok dato da tutte le istituzioni comunali sono entrati da una finestra laterale e per fortuna dentro nell'appartamento non c'erano calabroni liberi, era tutto concentrato nel cassone della Persiana. Nel cassone della Persiana ho trovato più di un metro di favo di calabroni che non è di un mese, era di un paio di mesi. Tutto si è fatto regolarmente, disinfettato regolarmente, tutto quanto, c'è stata piena soddisfazione da parte nostra dei condomini, mia e dei condomini e io volevo anche fare un ringraziamento al geometra Franco e altre persone dell'Atre e del comune che sono mossi e anche i pulizioti di quartiere che tramite anche loro siamo riusciti a muovere questa situazione che era diventata abbastanza pericolosa per noi che abitiamo qua. Una nota importante del nio di rilievo è che le vostre preoccupazioni che avreste dovuto pagare l'intervento invece non si sono verificate. Sì, il geometra Franco stamattina che era qui presente per tutta l'operazione mi ha garantito che questa cosa qua che effettivamente era pericolosa sia per quelli che tornavano e per noi che abitiamo qua, era una cosa da mettere in sicurezza straordinaria, non ci verrà addebitato sulle spese condominali e oltretutto hanno detto che sistemeranno queste cose, che le famiglie vanno via, chiederanno le chiavi, chiederanno qualcosa nei tempi che vanno via perché se succede ancora su altre cose pericolose ha detto che provvederanno a fare qualcosa anche. Comunque ci ha garantito che non ce le troviamo come spese condominali, una cosa straordinaria ha detto, che è stata una cosa da mettere in sicurezza. Ecco, quindi adesso sulla tapparella non si vede più niente, quello che resta diciamo sono qualche calabrone insomma qua morto sul pavimento. Sì sì certo, sono morti tutti, hanno già portato via anche il favo e niente, allora noi abbiamo avuto un grazie a tutti che ci avete aiutato per sistemare questa cosa.